Sesta corsa Una prova per anziani Vincitori da 10 a 40.000 euro Nell'ultimi 12 mesi Una bella prova per 9 1 Bomber B, 2 Zarevic, Blast 3 Unica Kajamar, 4 Zeno Tab, 5 Una bella gar, 6 Brooklyn Lux in seconda fila 7 Bridget Rock, 8 Brillant Firm 9 Suertes, Cage Problemi per Bridget Rock L'autostart Li lascia Ed è veloce Zeno Tab Che prende la testa, allargo Brooklyn Lux Che cerca di scavalcare una bella gar In testa Zeno Tab all'imbocco della prima curva Una bella che cerca di contenere Brooklyn per andare Sulla testa della corsa Insiste Brooklyn Che attacca in mezzo alla pista E tende a passare nei confronti di una bella gara Sfila al comando Così la favorita allo scoperto E Brooklyn Lux al comando Dopo 13,9 per il lancio iniziale Brooklyn Lux Una bella gar di fuori Zeno Tab alla corda Suertes Cage Subito in seconda pariglia Numero 7 I primi 400 Se ne vanno in 28,2 Seconda pariglia per Suertes Cage Che va a coprire Zeno Tab Poi ancora unica Cajemar lungo la corda Mentre si muove Dalle retrovie Brillant Firm Che è in Quarta pariglia esterna Dopo 600 metri Passati in 43,5 Brooklyn Lux Continua a guidare Nei confronti di Zeno Tab A largo c'è una bella gara Suertes Cage in pariglia La terza pariglia esterna È per Zarevic Blast Che precede Brillant Firm Gli 800 iniziali Con una frazione in 33 Se ne vanno in 58,5 Si va verso il chilometro Con lo schema di gara Che è cristallizzato Dopo lo strappo iniziale 1,13,6 I primi 1000 metri Brooklyn Lux in vantaggio Prova ad allungare Da Zeno Tab Si muove Suertes Cage Trascinandosi Zarevic Blast A 400 dalla conclusione La dritta di là Passata in 14 Spaccato 1,27,6 I primi 1200 metri di corsa E Brooklyn Lux è in vantaggio È seguita da Zeno Tab In mezzo alla pista Zarevic Blast Che cerca di andare su Suertes Cage Poi è ancora unica Kajimar lungo la corda La piegata conclusiva Passata in 14,3 Brooklyn Lux è richiesta Ma è ancora in vantaggio Nei confronti di Zeno Tab In mezzo alla pista Zarevic Blast Zarevic che scatta su Brooklyn Lux Zarevic Blast Che batte Brooklyn Lux Mentre finisce forte Ma fa solo il terzo Brillant Firm 1,56,3 1,12,3 Zarevic Blast E Roberto Vecchione Vengono a vincere Per il training Il training di Olga Relert E i colori della scuderia Furia Allo speed Dalla terza pariglia Zarevic Blast È il mattatore della corsa Brooklyn Lux Ha strappato a partire Ci ha provato davanti Ha resistito Fin quasi sul palo Ma Zarevic Blast Era più fresco Ed è venuto a vincere Con una lunghezza e mezza Chiara Nei confronti di Brooklyn Lux Che è buona seconda Al terzo Brillant Firm Grazie Grazie